allora sono qua su youtube adesso in contenuti adesso io voglio andare a cercare tutti quelli abbonati applica ok sono molti ok sono più di 800 se io vado a vedere sono tanti ok questi qua vorrei trasformarli tutti in in privati naturalmente lo faccio vedere per uno poi farò vedere che è possibile farlo per tutti lo faccio vedere ok però l'idea è come si dice lo faccio per uno perché dopo se non per tutti ci metterà una vita ok allora prima lo faccio vedere per uno solo e dunque vado qui abbonati vado a mettere qui schiaccio questo perché lo voglio trasformare in privato ok però gli voglio mettere dentro anche che era stato abbonato ok era abbonati allora cos'è che faccio vado in modifica modifico titolo ok inserisci dall'inizio alla fine non sostituisci tutto e metto hashtag abbonati ok aggiungi modifica voglio portarlo dunque prima modifica gli aggiungo l'estensione all'inizio abbonati così se vado a fare una ricerca lo trovo subito ok e nella visibilità lo metto privato dunque abbiamo scelto visibilità privato e abbonati ok andiamo aggiorna video ricordiamoci si chiamava mazzac 04 stai per aggiornare video selezionati una volta avviato l'aggiornamento non può essere intorno interrotto aggiorno al video naturalmente con uno ci mette così tanto pensiamo ok a questo punto io cos'è che faccio posso andare qui metto abbonati ok e io ho che gli avevo già fatto perché avevo già fatto le prove last abbonati tutti quelli che ho scritto abbonati lo trovo privato adesso vado a fare visualizzazione no visualizzazione visibilità confondo abbonati applica e se lo faccio per tutti dunque faccio così seleziona tutti i video corrispondenti sono più di 800 vado in modifica dunque titolo inserisci all'inizio slash abbonati ok aggiungi modifica visibilità ve lo metti privato tutti i video corrispondenti selezionati dovrebbe essere tutti aggiorna video sono consapevole aggiorna video vediamo sono più di 800 ok ci metterà parecchio tempo però praticamente si fa così io dopo l'ho fatto vedere per il primo è inutile che aspettiamo qui ok dunque questo funziona dunque due modifiche e ma ci vediamo la prossima e qua ci mette una vita riprendiamo adesso ha finito pensavo molto di più invece già messo 10 minuti circa fosse anche meno ok vado a vedere filtro vado visibilità abbonati applica non ne ho più a questo punto il digito abbonati contiene abbonati e ho tutti quelli con abbonati abbonati e dunque ha funzionato ed è tutto in privato va bene ci vediamo la prossima rivederci